... Recupera Forlicchia già dall'altra parte con Jeff Rodriguez per Rissi De Randi, grande protagonista a Tortone, grande protagonista anche di questa azione. Natali dall'altra parte l'area Le Mutua che ancora non ha trovato l'area del canestro, la penetrazione di Cappelletti che ha grandi gambe, lo dimostra anche la squadra di Cavina con Cappelletti marcato da Natali, si va dentro per la penetrazione. Il canestro di Daniele Toscano, 9-8 con Pinkins, un po' in difficoltà, poi la trova Clark e dà un grande pallone sul raddoppio difensivo a Pinkins che va a inchiodare la schiacciata. L'interpretazione arbitrale quindi si può continuare con l'azione forlivese, l'assist di Rodriguez. Si va poi da Cappelletti per Pinkins, attenzione che ha questo tiro, infatti lo in buca. è migliorato rispetto agli anni di Forlì, è un giocatore importante per la 2. tanto dalla lunga distanza, ancora bersaglio, il fisico che ha sbaglia, si lottano in basso, Ali Begovic nella tonnara riesce a ricciocarla fuori, c'è la finta, poi prende la conclusione dalla lunga distanza, ma Pina, Rodriguez, Roderick, eccolo che va dentro, poi in rovesciata, la clamorosa, Clark, qua là sotto per Pinkins che elude la marcatura di Landig, rimane nel primo quadro ne aveva preso uno da due, quasi allo scadere dell'azione. Ancora continua a martellare il Torino, Clark, i Comacose quest'anno a Sanremo, sei veramente... Onnisce, è ancora Clark, adesso mi incendia proprio dell'anno... Campani, Penna, la tripla di Penna, che è vari... Eh sì, Clark si arresta, poi su un piede solo, va a trovare il canestro, ora deve leggere una situazione tattica diversa Torino. Alibagovic la spara e trova il canestro sulla sirena. Direi che l'ha letta bene, l'ha letta. In ora, almeno da questi primi 23 minuti di gara, tanto ancora Alibagovic, ancora canestro. Continua Alibagovic a rimbalzo, la rigioca per Cappelletti sulla auto di sinistra, Cappelletti va dentro con la moto e va... Soltimi 8 secondi, poi durante la pausa facciamo una considerazione. No, 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 tranquillo perché così tanto lasciamo gli scorrere, vediamo un secondo, va a tirare lo scadere da buono, da buono. Di questa partita, in generale di un momento di Roderick, che secondo me era stato molto positivo nel chiamato. Allora, guarda, qual è la differenza, indipendentemente dagli infortuni, dei problemi e dai casini? La differenza fa le due squadre è... La penna a Busciati, tinta solo da tre, va ancora per il tiro della lunga distanza, di nuovo a Bersaglio, siamo a 40. Parliamo di risparmi. Risparmio o non risparmio? Risparmio, risparmio, risparmio! Risparmi da fame! Risparmio! Risparmi di una... Risparmio! Tranquillo, le risposte che cerchi te le offre Reale Mutua. Con i prodotti di investimento assicurativi gestisci i tuoi risparmi in base alle tue esigenze. Prima della sottoscrizione leggere i siti informativi su realemutua.it. Tutto questo per me è stato offerto da Reale Mutua. Premiata per il migliore indice di solvibilità. Chiedi a un agente.